la tua faccia è sempre per il mio canale youtube youtube lino se non ti becca è mai vanticolo un po non ti prende dentro vieni mamma vieni facciamo anche un sorriso speriamo di sfodolare tutti i 70 lenti meno male che nel 70 lenti eeeh dopo metà che che c'ha la coda tante a curi a te tante a curi a lisa tante a curi a te micro onda un boxing un boxing e l'ha fatto tutti eh c'è il biglietto di la cittina con i miei biglietti micro onda che bello mettiamo la panna hai visto che stai graffato? micro onde la scatola è quella di micro onde dentro ci sono pennelli d'arte fran allora è fran non è vero non sono soldi tranquilla peccato scuovai perché mi va ma ne faccio anche così soldi Ehi Patti! Eh sì, te lo spieghiamo! Se mamma, le tue rimuove non possono valegliare! Ah ci sono giù delle faccette da massimo! Questo è il dico fatto il momento giusto! Questo è il momento giusto! C'è sempre anche l'alternativa 3 Fai gli sportici Ah per i capelli ma non per i capelli! Perché amore sono erusi per i piatti! Hai pulito il mio qua! 8-10! Ne hai ancora il mio? Pulito il mio! Marco! Vieni! Vai! Andai! Vai! Mmm! Sì sì appunto! Facciandolo fino! Ma nella quantità giusta! C'è sempre visto! Sarà un po' caldo probabilmente! Non è buono! Se le bebezze a tutti e poi sta stasera! Tieni! Poi tengo il tuo ambiente di là! Le mambo si! Aaaaah! Auguri! Cinti! 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 Corra se ci vuole guardate! Cinti! Cinti! Passiamo le notte! Cinti! Oh! Eh! Guarda! Una mano bella! Una mano bella! Non l'hai fatto? Hai lasciato? Allora così si schiaccia con questo! Dai proviamoli tutti! Un portale normale! Anche perché quello lì è un portale da pelle! No no no! Dai fai così dai! Eh si dai! Proviamo una! Non fa niente per il filo! Non c'è di abitico! Non c'è di abitico! Usa il dito! Non l'ha toccato dal vino! Tutto il piatto va giù! Traini! E sempre sotto l'altro! Ecco! E ti sembra che non lo tieni ma lo tieni! Se ti fa più sicurezza mettilo qua! E poi stai in poi! Ed avvocati! Cerca di tenere la mano un pochino più! Non piazza! Chiudi un pochino le dita e piega un po' il polso! Ecco così! Vi alzi in maniera che non ti cadano più davanti! Puoi metterne cinchiai nelle dita no? Sì! 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 Dai un servizio da 224! Pederina! Sei un cattico! Nooo! Non la vai! Non la vai! E' successente! Quando basta il forno che abbiamo guardato! 200 di più! Guarda! Guarda! Guarda il gas! Sì! Guarda l'altra che non è gas! Sì! Guarda! 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 Stiamo aspettando! Allora Luzy si finisce! Io 7 settimisci! Facciamo l'unboxing! Faccio io? No! Ecco, brava, già meglio, via il dico, brava, ecco, tanto, 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 tanto non c'è tanta che ti poti giù ma non riesci non riesci è fame? ho smazzato lo scatolone ho smazzato la sera era un po' aspetta da che parte c'è una maniglia? no dov'è che l'antigola? appena mangiate voi vi servo lo scatolone? vi servo lo scatolone? no allora ecco ecco wow adesso che torno la scatola che c'è scatola? è un petto l'imbarlo questa guarda che c'è questo qua no è un petto l'imbarlo no questo è sempre fatta del volo ah è sempre fatta del volo guarda che guarda che così che bello aspetta che c'è una maniglia qua Grazie a tutti